Si è arreso dopo tre giorni di caccia all'uomo. L'accoltellatore dei giardini del Porcinaia d'Arezzo, un tunisino quarantenne che aveva ferito gravemente un connazionale equetaneo ancora in pericolo di vita all'ospedale San Donato, si è consegnato agli uomini della squadra mobile. Per lui gravava un provvedimento di fermo della procura per tentato omicidio, giustificato anche dal pericolo di fuga. Il quarantenne ormai messo alle strette avrebbe mandato un parente in questura per far sapere che era pronto a lasciarsi prendere, poi ha atteso nel centro cittadino i poliziotti. Su di lui gli investigatori avevano raccolto una lunga serie di indizi che lo inchioderebbero a quella notte di follia, un pressing serrato che lo avrebbe convinto ad arrendersi. Tutto sarebbe nato la scorsa domenica da un diverbio per questioni personali finito a colpi di coltello. L'aggressore con precedenti per spaccio e reati contro la persona subito dopo il fatto di sangue era scappato. In ospedale invece erano finite due persone, un quarantenne colpito all'addome, al volto e alle spalle ed un 25enne che invece aveva tentato di far da pacere ma aveva rimediato ferita ad una mano. Le condizioni del ferito più grave restano ancora preoccupanti, si trova nel reparto di rianimazione ed intanto la zona del giardini del Porcinaio, ormai sempre più spesso teatro di fatti di cronaca, attende l'inizio dei lavori di riqualificazione annunciati dal Comune di Arezzo.